bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video oggi vediamo mi è arrivato il parco da giappone il tokyo treat oggi l'andiamo ad aprire allora facciamo questo unboxing vediamo cosa esce oh 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 Vai 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 apri fa vedere che c'è dentro però mostra lì cos'è quello poi questo quello che abbiamo visto dentro l'altro video poi saranno caramelline fai vedere questo Lu, fai vedere fai vedere Francesco sono quelle là che io mando francesco, devi far vedere qua quello che stai prendendo cosa sono? passaggio? no, non ancora, aspetta e queste ne sono? e fai vedere qua bella la scatola ok, salute adesso apriamo il pesciolino tiralo un attimo tiralo, tiralo guarda, france un pesciolino ripieno dagli un morso, fai vedere dio mio bello bello daglielo un po', daglielo un po' qua com'è Lu? buono buono anche lì mando sei per agli niente allora? com'è? ciao 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 questo qua invece è una stecchetta dolce tipo caramella di piena con una salsa da mettere sopra che è buonissima l'abbiamo assaggiata purtroppo vedete l'abbiamo finita ed era veramente buona questo invece è l'anello e l'anello del calicca fanno sempre bello ve lo dobbiamo assaggiare questo qua poi ci sono queste caramelle tipo Smarties un paio le abbiamo già assaggiate che sono veramente buone non urlare non urlare aspetta eccola qua altre caramelline riuscite a vedere sono buone queste Lu? ah che fai le rubi? queste invece sono caramelline a forma di torta non so se riesci a vedere sono buonissime così come ce l'hanno gli orsetti in mano no no e te? si deve mettere il liquido dentro fuori no dammi questi invece sono mini mashmallow guarda dammi dammi guarda bellissimo questi qua invece sono biscotti a forma di animali c'è il leone la paperella la mucca il cane e il cavallo guarda questi qua invece sono i pesciolini li vedi? guarda qua sono i pesciolini quindi dobbiamo fare dobbiamo fare l'acqua calda e mischiamo questi no ah no quello è intero senti qua è intero è un pesciolino ma troppo bello guarda questi qua sono i biscotti mignans sono buoni poi hanno i bracciata total male l'abbiamo assaggiato sono fatti così le patatine guarda eh sono buone queste qua no grazie